Il servizio di Pierluigi Boraggine che racconta la denuncia ormai pubblica del sindaco di Capobasso Roberto Gravina che ammette che il sistema di videosorveglianza in città non funziona. Il sistema di telecamere della città di Campobasso finanziato dalla regione Molise con il patto per la sicurezza sta mostrando una serie di criticità che l'amministrazione comunale ha già fatto presente ufficialmente alla regione. Lo scrive il sindaco Roberto Gravina sottolineando che soprattutto dal punto di vista tecnologico il progetto non è adatto alle infrastrutture esistenti. In ogni caso trattandosi di appalto regionale, aggiunge Gravina, abbiamo scritto alla regione per chiedere un intervento in garanzia. Gravina ricorda che la ditta ha risposto ad una nota del comune specificando che l'impianto è stato consegnato in modalità test e pertanto è per definizione in uno stadio intermedio e parziale di realizzazione e può presentare criticità da definire e risolvere. Il contratto impedisce, anche sotto il profilo giuridico, l'avvio della manutenzione. Gravina ritiene necessario intervenire per migliorare l'infrastruttura esistente ma poi, con altro programma, abbiamo, spiega, previsto altre 21 telecamere. Si tratta di telecamere di migliore qualità rispetto a quelle esistenti che non verranno connesse sulla rete wifi ma forniranno immagini visionabili ogni volta che le autorità di polizia ne avranno bisogno e ne faranno richiesta. Il sistema di videosorveglianza con 120 telecamere era stato inaugurato lo scorso 8 aprile dall'allora sindaco Antonio Battista e finanziato dalla regione con un esborso di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Primo piano Molise, videosorveglianza, Gravina certifica il flop, non funziona, affirma del direttore responsabile Luca Colella anche l'editoriale, telecamere, fumo negli occhi dei molisani. L'apertura, concorsi, toma, tira dritto, andiamo avanti, PD e 5 Stelle incalzano il governatore sugli avvisi per l'assunzione di dirigenti e funzionari, le procedure vanno sospese o annullate. Dopo ore di discussione la seduta si scioglie senza provare atti. L'affondo di Boccardo della Will mentre altrove si crea lavoro, qui si pensa alle trasferte all'estero. Intanto il Presidente annuncia la costituzione di un tavolo permanente sulla crisi edilizia. Asrem, Lucchetti e Forciniti defenestrati, ecco le carte. Addio Fred, aneddoti e ricordi inediti parlano gli amici di infanzia. Picchiave, violentava la moglie pure davanti ai figli, avvocato di Campobasso, cocainomane nei guai, termoli, pericolo, terrorismo, sigilli al campo, volo di Riovivo. Impiccò un cane, settantenne di Boiano, patteggia la pena, regione in ritardo sui pagamenti, la ditta non ha soldi per riparare i bus, termoli, vigili del fuoco, 12 uomini in più al distaccamento. Sport, Campobasso, Bontà e Vanzanz qualificati per la sfida contro il Fiuggi. Tanto Molise per tifare le azzurre, l'agnonese Marinelli, Coppa Italia, Biccari, il recupero dell'ultimo match della fase a Gironi. Andiamo sul messaggero, Scudo, Ilvas, Contro, Conte e Cinque Stelle, Arserol Mittal, deposite il recesso, i grillini pugliesi, no all'immunità e Di Maio evoca la crisi manovra, Gualtieri, Asilini do gratis da gennaio, Plasti Tax e auto aziendali cambia. La stretta, Venezia sott'acqua, 170 cm a San Marco, flagellate le città d'arte, un fiume di fango sui sassi di Matera, l'impegno in Iraq e le certezze che chiediamo all'Unione Europea, l'esigenza di restare. Andiamo sul Corriere della Sera, Conte e Di Maio, il duello sull'Ilva, agita il governo, il leader Cinque Stelle, no allo scudo, Mittal se ne va, parla Zingaretti, di presentarsi uniti contro la destra. Spazio anche sul Corriere al maltempo, allarme a Venezia inondata, Matera, in questa foto, Piazza San Marco con l'acqua alta nella serata di ieri che ha superato, l'abbiamo visto, i 180 cm, in quest'altra invece la chiesa di San Pietro a Matera, la città lucana, è stata flagellata letteralmente dal maltempo. Andiamo su Repubblica, Ilva, brutta fine, l'acciaieria funziona ormai al 30%, materie prime fermate nei porti di Taranto e Brindisi, Di Maio e i parlamentari grillini bocciano lo scudo penale per i manager, sconfessato Conte, Provenzano, ministro per il Sud, se chiudono pagheremo caro. L'acqua alta, sfiora i due metri, paura a Venezia, il sindaco dice un disastro. Reportage, Israele uccide capo giadista, Gaza torna nell'inferno. Il Sole 24 Orex, Ilva, Arcelor va in tribunale a Milano, scontro Conte, 5 Stelle. Deposita l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, trattativa a oltranza tra i 5 Stelle sullo scudo penale. Se non ci saranno garanzie legali, difficile riaprire il confronto con Mittal, Boccia, Confindustria, i problemi non si risolvono con la nazionalizzazione. Inchiesta l'economia del Nord faccia a faccia con la crisi, meno 0,8% il calo percentuale della produzione industriale, per esempio, delle imprese di Bergamo nel terzo trimestre del 2019 rispetto all'anno prima. Trump anti-UE, Dazi al countdown, sottotiro l'auto europea. Manovra, le manette agli evasori finiscono sottotiro alla Camera. Opposizione Italia Viva chiedono la soppressione delle nuove sanzioni. E andiamo in chiusura con la Gazzetta dello Sport. Milan, l'uomo per te, si parla di operazione Ibrahimovic, lo svedese pronto a tornare in Italia. Si libera a fine dicembre, i rossoneri offrono sei mesi di ingaggio per farlo finire al top e per risollevare i pioli. Napoli e Bologna restano alla finestra. Allarme Juve, Ronaldo scopre la prima crisi e il debito sale. Ora Napoli fa paura, le mogli di Insigne, Allan e Zielinski lasciano la città. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete a partire dalle 11 Vox Popoli 2, 12.30 Viva la Musica, 13.20 Reportage, alle 14 il TG, alle 16 Vox Popoli 2, 17 Reportage, 19.30 TG News, alle 21 Viva la Musica, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina, grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.